Ieri sera intorno alle 21.14 è stata registrata una scossa di terremoto a Castignano nelle Marche. La popolazione, come spiega fanpage.it, ha percepito distintamente il sisma. La profondità della scossa è stata stimata a 11 chilometri, mentre l'epicentro è stato individuato a 5 chilometri da Castignano dall'INGV. Oltre a Castignano, il breve terremoto è stato avvertito anche nelle zone circostanti, tra cui Ascoli Piceno, Rotella, Appignano del Tronto, Monte di Nove, Venarotta, Offida, Montalto delle Marche, Folignano, Rocca Fluvione, Force e Palmiano.